Obbligo di mascherina all'aperto in campagna, si va verso la proroga. Scade domani 1 ottobre l'ordinanza regionale attualmente in vigore che prevede l'obbligo di indossare su tutto il territorio regionale dispositivi di protezione in ogni luogo non isolato come centri urbani, piazze e lungomari, nelle ore o in situazioni di affollamento. Quando si è in fila, si visitano mercati o fiere, si partecipa a eventi. Si attende un mezzo di trasporto come un traghetto o una nave. Si attende in queste ore la firma del governatore Vincenzo De Luca, le disposizioni sono conforme a quelle contenute nell'ordinanza del Ministero della Salute attualmente in vigore. Intanto, secondo il bollettino regionale di ieri, positivi del giorno 316, test 17.150, deceduti 9 nelle ultime 48 ore. Per quanto riguarda i posti letto su base regionale, quelli di terapia intensiva disponibili sono 656, occupati 19, posti di degenza disponibili 3160, di degenza occupati 241.